Musica Andiamo così abbiamo tempo per discutere anche tra noi Lascio subito la parola al prossimo relatore che è Giuseppe Pellegrini, presidente di Observer Science and Society Come forse molti di voi sapranno, Observer è una istituzione, un centro di ricerca che raccoglie moltissime delle informazioni che noi abbiamo sulla relazione tra la società italiana e la scienza Oggi ci parlerà di scienza, tecnologia e opinione pubblica spero che ci darà dei dati quantitativi su cui ragionare poi insieme Prego Giuseppe Grazie Ecco buongiorno, grazie al CICAP dell'invito Io cerco di collegarmi da un lato con alcuni aspetti che riguardano l'opinione pubblica e anche con alcuni elementi che riguardano la comunicazione e il coinvolgimento del pubblico perché stiamo assistendo anche a un movimento di opinione da un lato e anche una mobilitazione degli scienziati e delle istituzioni tecnologiche per andare incontro al pubblico e quindi questi sono un po' i miei argomenti che cerco di presentarvi Dal 2013 e anche nel 2015 c'è stato un forte movimento di opinione nelle comunità scientifiche per quanto riguarda, come dire, quello che prima discutiva giustamente Vacca cioè gli errori della scienza, gli aspetti controversi, le problematiche perché poi spesso la scienza non funziona o le applicazioni della scienza creano dibattiti controversi e proteste e molte comunità scientifiche e anche riviste autorevoli di queste comunità si sono interrogate parlando dell'impatto parlando anche e soprattutto del tema della interdisciplinarietà a dire probabilmente le scienze tra di loro devono dialogare di più per cercare di dare delle risposte complessive posto che appunto prima si diceva non è che la scienza può dare le risposte a tutte le domande e quindi è possibile forse anche questo gioco di squadra, questo lavoro peraltro è stato accennato anche prima le istituzioni europee pensate al programma Horizon 2020 che è il programma che finanzia tutta la ricerca europea con grandi somme ha proprio, come dire, uno spazio molto importante sugli argomenti che riguardano il rapporto tra scienza, tecnologia e società tanto che appunto i ricercatori, si diceva già prima non possono portare a casa, come dire, i finanziamenti se non si occupano anche di questa cosa quindi sono cambiate diverse modalità e io vedo, diciamo, negli ultimi anni un doppio movimento cioè un movimento dell'opinione pubblica che desidera saperne di più vuole essere coinvolta ovviamente con toni diversi toni anche di protesta l'abbiamo già visto prima, con polemiche e poi c'è anche un movimento però da parte dei ricercatori e dei scienziati di andare sempre più incontro al pubblico questo per motivi strumentali da un lato per motivi politici sicuramente è stato detto prima, poi vedremo anche in che modo ma anche per motivi comunicativi cioè è cambiato il modo con cui si vuole comunicare la scienza e la tecnologia e direi in altre parole che qualunque scienziato ricercatore oggigiorno non può fare a meno di considerare questo aspetto come comunico il mio lavoro questo tema qui è diventato centrale tanto che, ad esempio, in Italia si discute tantissimo di terza missione sapete che cos'è la terza missione dell'università e i ricercatori un po' alla volta saranno anche valutati non solo perché producono perché pubblicano su Science ma probabilmente perché anche dedicano del tempo a comunicare con il pubblico quindi esempi ce ne sono tantissimi dalla marcia dei ricenziati già citata prima ma anche pensate a tutto il tema ormai da più di dieci anni si svolge la notte dei ricercatori che è un evento importantissimo che coinvolge più di 300 città in Europa in cui gli scienziati raccontano cercano di incontrare il pubblico in vari modi allora cosa succede? che però spesso questa comunicazione diciamo nei momenti anche un po' più critici si diventa quasi una comunicazione tra sordi cioè molto spesso anche il mondo degli esperti uso questo termine un po' più generale rispetto a scienziati ritiene che in qualche modo l'importante è far qualcosa l'importante è dirti qualcosa e comunichino io mi occupo della valutazione della notte dei ricercatori ho visto delle conferenze in cui praticamente anche alcuni ricercatori in buona fede incontrano un pubblico magari molto vario anche di giovani e dicono le stesse cose che hanno detto la sera prima a Oxford nella loro comunità scientifica e questo crea ovviamente un gap e lo dico in buona fede senza offendere nessuno ma capita quindi esistono diverse modalità con cui si cerca di dialogare comunicare e fare il coinvolgimento queste sono tre tipologie tipiche te lo dico con parole mie vale a dire io sono un fisico che io abbia di fronte ripeto i fisici di Oxford o abbia di fronte alla casalinga di Voghera lo dico allo stesso modo cioè chi ti piaccia o meno è così esiste un'altra modalità invece che è sempre più praticata cercare come dire di tradurre di comunicare in un modo più comprensibile spesso anche di ascoltare perché poi comunicare significa anche ascoltare cercando in qualche modo di interagire in maniera più attiva o addirittura come spesso capita immaginate tutto il tema di laboratori aperti del far fare scienza del far praticare la scienza alle persone con il guarda prova impara allora vediamo qualche dato si dice spesso gli italiani sono antiscientisti c'è questa idea non molto spesso negativa del pubblico che ce l'ha con la scienza e invece in realtà noi studiamo l'opinione pubblica dal 2000 e abbiamo visto che tra le fonti più credibili le fonti più credibili in materia di scienza in testa ci sono sempre gli scienziati cioè in generale gli italiani e le italiane pensano che la maggiore credibilità sulla scienza ce l'hanno gli scienziati questo in generale e adesso lì si vede forse non tanto bene cos'è successo che negli ultimi anni è aumentato tantissima l'esigenza di conoscere dalla viva voce dei ricercatori cosa vuol dire fare ricerca e fare scienza cioè raccontateci le vostre storie questo è il messaggio sotto sotto ok e questo è un fronte questo non significa che non esistano parallelamente controversie sulla salute cioè sui temi dove esiste un forte divario etico morale chiaramente ci sono tantissime divisioni c'è tantissimo prima è già stato è già stato detto ampiamente però di fatto pensate al festival della scienza di Genova che è il festival più frequentato in Europa che cosa è diventato se qualcuno di voi c'è stato quindi questo desiderio questa attenzione c'è allora in più anche se noi parliamo non solo di comunicazione ma anche di decisioni che riguardano la ricerca e questo è appunto le politiche della ricerca che è una cosa un po' diversa lì addirittura tra alcune alternative si dice che la comunità scientifica dovrebbe essere maggiormente titolata perché sono gli scienziati conoscono bene le priorità della ricerca cioè a dire gli scienziati nei processi decisionali dovrebbero avere un peso importante maggiore al secondo posto anche i cittadini questo appunto rientra nelle utopie di Bobbio forse però di fatto è un'esigenza anche qui qual è il messaggio i cittadini probabilmente non è che vogliono essere onniscienti però vogliono in qualche modo partecipare laddove ci sono delle decisioni e contano sul fatto che gli esperti siano una risorsa importante quindi questo è un altro elemento questo ve lo faccio vedere perché abbiamo fatto un test già da alcuni anni per vedere quali sono gli scienziati che hanno una maggiore visibilità in Italia questo ci ha sorpreso molto perché non ce l'aspettavamo e appunto tra le scienziate più riconosciute vediamo Fabiola Gianotti uno direbbe caspita è la direttrice del CERN allora per gli addetti ai lavori è normale ma uno non si aspetterebbe che fosse così pop anche per la popolazione italiana e di fatto è così 75% vuol dire quasi 8 su 10 in Italia sanno chi è quella persona lì ma c'è un motivo perché se voi ricordate Fabiola Gianotti non ha fatto solamente e non fa solamente la direttrice del CERN ma gira spesso è nelle trasmissioni anche trasmissioni molto pop è presente e quindi si fa conoscere è una figura poi come anche Samantha Cristoforetti probabilmente abbiamo anche bisogno di questi spazi di comunicazione che sono anche un po' come dire degli spazi light ma sicuramente pongono una presenza poi vedremo anche altri casi allora cosa succede che di fronte a alcune controversie è andato un po' in crisi il meccanismo diciamo tradizionale in cui ci si fidava solo degli esperti e dei politici decidano loro facciano quello che credono gli esempi che qui abbiamo e vedete insomma il nucleare gli OGM la mucca pazza di prima il caso di Bella è un caso esemplare di miss conoscenze e uso della cosiddetta pseudoscienza però questo è il panorama e sicuramente questa richiesta di partecipazione va considerata il problema è come come gestirla come si fa a gestire i processi di decisione in cui c'è una quota scientifica molto importante allora io vi dico alcune cose che si fanno in giro in Italia non tantissimo ma si fanno cioè esistono dei contesti deliberativi cioè di momenti in cui a tappe diverse i cittadini possono anche non solo dire la loro ci sono dei momenti per gli esperti per i decisori ma alla fine i decisori siamo in democrazia democrazia rappresentativa alla fine qualcuno deve decidere quindi esistono dei percorsi già sperimentati in cui è possibile accogliere questa domanda dei cittadini ovviamente deve essere fatto in un modo ordinato ecco questo è il problema non può essere solo come dire un moto di protesta o fare un sondaggio nei social esempi adesso io non entro nel dettaglio ma era solo per completare i quadri del discorso su scienza e democrazia esistono degli strumenti con cui si può anche giocare a questo livello sia di comunicazione sia di inclusione laddove si devono prendere delle decisioni le consensus conferences town meeting le giurie di cittadini anche cose vissute qui nel nostro paese laddove c'è da prendere una decisione vediamo come arricchire il processo decisionale il che non significa attenzione sostituire la democrazia rappresentativa a zerarla tutti decidono tutti in una sorta di assemblerismo degli anni 70 significa arricchire quel processo decisionale perché come dice giustamente Bobbio il tema è come faccio a rendere la democrazia più partecipata quindi questo come dire questi sono degli strumenti ripeto non risolvono tutto si possono applicare allora in definitiva dal punto di vista della comunicazione che cos'è che sta cambiando e probabilmente anche se non vogliamo cambierà è che probabilmente bisogna passare da un modello molto verticale in cui esisteva al massimo una comunicazione tra decisori esperti e i media e poi si faceva una sorta di trasmissione al pubblico modello molto verticale cosiddetto modello del deficit in cui un po' tutto sommato è come dire la gente è ignorante facciamo questo catechismo scientifico e insegniamo le robe alla gente la gente ci varrà dietro a maggior comunicazione uguale maggior consenso niente di tutto ciò è vero anzi molto spesso anche nei nostri dati che cosa viene fuori che sono spesso le persone più colte e più informate che sono contrarie che sono contrarie a questo modello qui un modello forse più credibile è un modello più circolare più fra virgolette incrociato di fondo in fondo è questo questi tre giorni sono questo modello qui cioè a dire non è che la verità ce l'hanno solo in tasca gli scienziati probabilmente ci sono delle modalità di condivisione e non dobbiamo spaventarci anche in maniera umoristica come è stato fatto all'inizio di questa mattinata se mettiamo anche un po' in crisi la scienza ma sono gli stessi scienziati che sanno benissimo che non esistono certezze incontrovertibili che non si possono mettere in discussione le esperienze di dialogo possono essere tante qui sono già state accennate di science caffè ci sono tanti modi con cui ci si può parlare tra cittadini esperti e scienziati bisogna saperlo far bene però perché sennò è come andare con i frac in spiaggia non si può fare il discorso di prima ti porto te lo dico solo con parole mie forse devi cambiare modalità e in questo mi sento di dire non è detto che tutti i ricercatori tutti gli scienziati debbano essere per forza di bravi comunicatori esistono fior fior di comunicatori di giornalisti che fanno benissimo il loro ruolo di mediazione e quindi non è necessario che tutti siano anche i ricercatori certo secondo me non possono prescindere da questo aspetto cioè se tu vivi oggi nel 2018 vuoi fare ricerca a un certo livello e non consideri l'aspetto della comunicazione ti escludi completamente altre esperienze sono anche quelle della citizen science anche qui mi sento di dire si parla molto della cittadinanza scientifica che non è solo reclutare un po' di gente perché avevamo bisogno di fare un po' di calcoli significa anche avere un rapporto con il pubblico anche per accogliere alcune istanze che probabilmente spesso anche dalle comunità locali sono estremamente interessanti anche dal punto di vista scientifico ecco per concludere una citazione che mi piace molto di Anne Rowe proprio già dagli anni 50 che diceva appunto come sia rilevante la comunicazione per fare coinvolgimento e quindi in estrema sintesi perché la scienza sia anche un po' più democratica e questo esempio che vi ricordate nel 99 quando Dulbecco partecipò al festival di Sanremo con tantissime critiche da parte della comunità scientifica ti brucerai oppure i maligni dicono adesso tu sei a fine carriera te lo puoi permettere tanto non perdi niente però lui interpretò in maniera ottimale quel ruolo perché seppe stare in quel contesto nel modo giusto dicendo sono venuto qui per fare esperienze non vado a lanciare nessun messaggio scientifico grazie 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 grazie